Prendi la pistola, la metti dove l'hai trovata e facciamo finta che non è successo niente, dai. Ascoltalo, dai, metti la pistola nella fondina. Dai. Apparamente l'ho trovata nel portoggetti. Come nel portoggetti? Porti in giro un delinquente e lasci la pistola nel portoggetti. Ma sono cose che capitano. Ma che cose che capitano? Ma dai, ma che stupi... Ma pensate... Ma chi è che ti ha addestrato, te? Topogigio? Dai, non scherziamo, ragazzi. Stai zitto. Cosa sta succedendo? Ti ho detto di stare zitto. Sì, ma dove stiamo andando? Maria! Mi sembra parlare, stai zitto. Non lo sopporto più. Aiuto! 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 Vemì il sono. Vemì il cibo. Pronto? Peppino, tutto bene? A casa? Perché volevo raccontarti una cosa. Io ho incontrato una ragazza. No, non la conosco. No, no, no. Aspetta, conosci uno che si chiama Peppino? Ma, 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 hey, frega perché Il mondo va più veloce di me È nato, è nato, è nato! È nato! L'ho fatto nascere io! Andiamo a vedere, andiamo! Ehi! Ehi! Tiro il proprio teo! Tiro, eh! Ehi! È il settimo giorno, Dio Kraljesburger. Ma come fanno un piaccio? Che ho fatto? Sono io che ho fatto! La grande strategia delle orchidee Cioè, non cazzate questo, eh? Questa è vita, natura. È un... Il corteggiamento del delfino, brutale, astuto e complesso. Non è quello che ci fanno vedere alla TV. La finanze cioè, il corteggiamento del delfino, brutto e legge o evo di un'altra tipologia. Questo film l'ho già finito, me il rapporto che è, me lo raccontavo io che non è finito.